Ospedale, brioni, scuole e spopolamento sono questi temi principali su cui si sfideranno i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative nel comune di Penne. Per la presentazione delle liste si avrà di tempo fino a sabato 4 settembre ma nel centrovestino i giochi sembrano ormai fatti. Il primo ad ufficializzare la candidatura è stato Gabriele Frisa, rappresentante locale di rifondazione comunista, il quale sarà capo di una coalizione civica denominata Penne Ribelle. A sostegno di Frisa ci sarà sicuramente il gruppo civico Penne Sì, di cui fanno parte nomi noti della politica pennese come Guglielmo Di Paolo e Matteo Tresca che nella tornata 2016 aveva appoggiato la candidatura di Ennio Napoletano, oltre ad articolo 1, gruppo politico guidato da Luca Rossi e Daniele Petacchini. Sempre a sostegno di Gabriele Frisa sono scesi in campo anche i Verdi che vede in questa la possibilità di trasformare Penne in una città sostenibile. Non sarà della partita, almeno come candidato allo scranno più alto di Palazzo di Città, il sindaco uscente Mario Semproni che ha deciso, dopo un solo mandato, di non proseguire la sua esperienza al sindaco della città. Per Semproni sicuramente la decisione non è stata semplice da prendere, ma questi cinque anni per lui e la sua Penne non sono stati semplici. Basti pensare alla complessa gestione della vicenda Rigopiano, ai terremoti e conseguenti danni alle scuole, per finire con la pandemia che ha costretto l'ospedale San Massimo alla trasformazione in Covid Hospital. A raccoglierne l'eredità e rappresentare la continuità amministrativa è Gilberto Petrucci, attuale assessore al bilancio e al patrimonio, appoggiato da gran parte della giunta uscente. Giochi fatti anche nel centro-sinistra che ha virato verso una figura femminile come candidato sindaco. Si tratta di Angela Pizzi, attuale dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Marconi, proprio di Penne, che ha accettato di candidarsi dopo un lungo corteggiamento politico da parte del senatore Luciano D'Alfonso. Ad appoggiare la lista civica, anche il gruppo di Tagliaviva, uscita l'ha scoperto nei giorni scorsi per voce del suo referente ed ex segretario proprio del PD Giancarlo Malacchi. Il senatore Luciano D'Alfonso vorrebbe l'ingresso nella coalizione anche dell'attuale vice sindaco Vincenzo Ferrante, ma questa volontà ha generato già i primi malumori. Chi si defila e non sosterrà nessuna delle tre liste citate è il gruppo Siamo Penne, accostata più volte sia al centro-sinistra che al centro-destra. Si defilano definitivamente anche i Cinque Stelle, che dopo l'espload di cinque anni fa con Luca Falconetti, non prenderanno parte alla tornata elettorale e non appoggeranno nessuna delle liste scese in campo. Dunque pochi giorni e poi non ci si potrà più nascondere, con i problemi che attanagliano da anni penne che saranno ancora una volta al centro della campagna elettorale.